Allora ragazzi, buonasera a tutti. Avete visto ieri il caos? Anche la trasmissione in cui dovevo uscire io non è uscita, perché siamo a un passo dalla guerra. Ieri ho visto le parole di Putin, ho visto la firma del trattato che riconosce la Repubblica di Lugansk e Donetsk, il Donbass, che riconosce dalla parte della Russia tutti quanti a festeggiare con le bandiere russe. A me sinceramente, fino a quando non inizia la guerra, conta poco, però sapete qual è il problema? Al posto di fare queste guerre, perché non risolvere col dialogo? Scusate, esistono le parole, esistono le parole non per quando dovete fare i fatti vostri. In questo momento servono le parole, ve la potete risolvere voi. Poi c'è un casino con la Nato che vuole fare casino, la Russia fa un casino, c'è un casino ragazzi. Ho sentito che Putin ha mandato le truppe della pace nel Donbass. Guardate, a me sinceramente, io dico una cosa, no alla guerra, no alla guerra. È vero, sì sì, voi direte, eh ma quelli la stanno combattendo dal 2014. Sì, ma come mai è andato fino a me in secondo piano? Ci dobbiamo fare un'altra guerra mondiale? Guardate che se facciamo un'altra guerra mondiale, l'Italia già sta a pezzi economicamente. Già con aumenti di luce, gas, bollette. Già stiamo messi male. No, veramente finiamo di rovinarci. Andiamo a finire col piede nella fossa, anzi no, mettiamo tutti e due i piedi nella fossa. Se facciamo una guerra, l'Italia va in rovina. Economicamente, socialmente, queste, queste. Bah, bah. Ricordatevi una cosa, no alla guerra.